Ciao ragazzi, le cose che sono successe oggi sono incredibili. Sono stato insultato da Miriel Fedel Soperita. Non ho le prove quindi non ci crederete. La cosa che mi fa arrabbiare è che voi li chiamate CAD. Inoltre pure Jack 420 si era intromesso difendendo il pagliaccio di Fede. Adesso voi mi insulterete ma fra poco vi farò vedere un po' com'era la scena. Jack ha un'idea bellissima per il mio. Ritorno. Va bene, se voi posso partecipare. Se non si presenta error sì. Ciao Jack. Guarda, staremo facendo un video. Per favore non disturbare. Ma c'è cosa vuoi ritardato? Io in quella scena me ne sono andato senza parlare. Da vaga. Dopo un po' gli ho parlato di perché questa reazione. E nel frattempo insultavano Chef Napoleone e me. Jack ma che cazzo mi combini? Che tu chiami questi CAD e ti unischi a loro Tian? Io ti avevo detto di non insultare niente e nessuno e tu cosa fai? Ti unischi ai tre potenti. Bene, bene, bene. Chi trovato il bambino? Chef Napoleone 1 per Cosa chain on Succus and Air. Da lì parti una vera e propria rissa che fu fermata da Jack. E mentre ti ho faccio un'occhiaire. Non di fuggire ai mii. Più. Più. Ha parlato quello che mi ha chiamato ritardato e che ha fatto chiudere a chef. Non lo sapevi che è molto sensibile? Mettiti nei panni di qualcuno prima di insultare e pensa.